Disastrosa prova della San Cataldese sul campo del Real Aversa nel turno infrasettimanale del Gironei di Serie D. I Verdi Amaranto sono usciti sconfitti dal rettangolo di gioco al termine dei 90 minuti con un parentorio 4-0. La sesta battuta d'arresto in sette partite dall'inizio del campionato. La San Cataldese è ultima con appena tre punti all'attivo insieme alla Mariglianese battuta in casa dal Castrovillari. Le reti del Real Aversa sono state messe a segno da Gassama, autore di una doppietta nel primo tempo, Petricciolo a inizio di ripresa e Cavallo nel finale. Domenica la San Cataldese tornerà a giocare tra le muramiche contro il Santa Maria Cilento, fischio d'inizio alle ore 15. I Verdi Amaranto hanno assoluta necessità di tornare alla vittoria per tirarsi fuori dalla zona più calda della classifica. Il Santa Maria Cilento arriverà a San Cataldo dopo due vittorie importanti contro Acireale e la Mezzia, attuale vicecapolista. Avversario tutt'altro che facile, dunque per la squadra allenata da Pietro Infantino. I risultati delle partite della settima giornata. Trapani, la Mezzia 2-2, Licata, Sant'Agata 3-2, Santa Maria, Cireale 1-0, Real Aversa, San Aldese 4-0, San Luca, Cittanova 3-1, Mariglianese, Castrovillari 0-3, Vibonese, Paternò 3-4, Catania Locri 2-0, Ragusa, Canicatì 0-0. La classifica, Catania 21 punti, La Mezzia 16, Real Aversa 14, Vibonese e Ragusa 13, Santa Maria e Castrovillari 10, Sant'Agata e Locri 9, Acireale, Trapani, Licata e Canicatì 8, Paternò 7, San Luca 6, Cittanova 4, Mariglianese e San Cataldese 3.